Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con la review di Rampage, sono Stefano, da voce di AW Italian Podcast e anche oggi sono qua per raccontarvi qualcosa che riguarda il mondo dell'errore elite, nello specifico ovviamente, quello che è successo a Rampage. Partiamo subito con il primissimo match, un match in cui Konosche Takeshita batte il suo avversario, uno degli avversari più temibili forse, Penta, El Zero Miedo, El Zero M, non so mai come si chiama, e passa il turno di che cosa? Passa il turno di un ladder match indetto per Forbidden Door in cui ci saranno sei persone a contendersi la cintura TNT che è stata tolta ad Adam Copeland, dato che non può ovviamente tenere quella cintura mentre è infortunato, deve far superare e quant'altro, quindi sostanzialmente la cintura verrà messa in paglio in questo ladder match. I primi due che potevano andarsi a prendere un posto in questo match sono stati proprio Takeshita e Penta, Takeshita è riuscito a vincere. Non precisissimo l'incontro in alcune fasi, un po' legnoso in alcune mosse, probabilmente il fisico di Penta o alcune cose che riguardano la mobilità di Penta non sono state gestite correttamente, Takeshita ha fatto un po' fatica a fare alcuni passaggi, però tutto sommato è venuto un buon match, sono due molto validi, quindi sicuramente potevano fare grandi cose, forse io mi aspettavo un pochino di più da quello che ho visto, però insomma anche qua poco problema. Sono curioso di vedere chi saranno gli altri che parteciperanno tecnicamente al prossimo futuro per Forbidden Door in questo ladder match, anche perché immagino vado a pensare che ci saranno anche dei lottatori giapponesi e magari messicani, quindi vedremo che cosa salterà fuori. La curiosità ovviamente nelle prossime settimane verrà ampiamente nutrita da quelle che saranno le cose che verranno messe in gioco proprio per questo tipo di situazione. C'è stato un momento di Chris Jericho nel backstage in cui ha praticamente annunciato di non fare più il commento di Rampage. Lascia il commento, vabbè con il suo solito modo, insomma sono una persona troppo in vista, mi potrebbero attaccare, sarei facile preda lì al commento, quindi insomma decide di portare avanti questa sua cosa. E si porta dietro appunto sia Brian Keat che Big Bill, insomma i tre fanno questa parte del Learning Tree e vediamo che cosa succederà. Sicuramente abbiamo un Daddy Magic che prende il post di Chris Jericho, sicuramente abbiamo temuto tanto quanto Chris Jericho ha detto Forse è meglio se non faccio il commentatore ma se mi faccio vedere per 5, 6, 7 segmenti in tv alla settimana. Ok, ma anche no. Quindi speriamo che non succeda questa cosa o se succede con un certo tipo di velocità viene ovviamente risolta. Roderick Strong invece, si vede Roderick Strong nel backstage insieme a Run Disputed Kingdom, ovviamente lui non ci sta ad aver perso contro Osprey un solo. Lui dice che avrebbe dovuto entrare nel Gauntlet Match, sarebbe entrato subito dopo l'ultimo che abbiamo visto entrare e quindi il fatto che sia finito il match prima del suo ingresso è ovviamente una sorta di cospirazione. E dato che insomma uno dei partecipanti era Leo Rush, Leo Rush sarà contro Roderick Strong domani a Collision. Ed è interessante perché per Leo Rush sarà il debut in ring con la All Elite, indipendentemente dal fatto che adesso non è sotto contratto e quando è stato sotto contratto non c'è stato nemmeno il tempo di farlo andare sul ring e quindi praticamente, vabbè, vedremo per la prima volta Leo Rush in All Elite fare qualche... cioè in realtà la seconda volta lottare perché ha lottato anche con questo Gauntlet, però vabbè, primo single match per lui. Va bene, va bene, va bene. C'è stato anche Sat Nam Sing che in pochi secondi ha distrutto Peter Avalon, non so bene cosa vogliono fare con Sat Nam Sing, però hanno cominciato a usarlo e... non so cosa vogliono fare con Sat Nam Sing, però hanno cominciato a usarlo e non so cosa vogliono fare con Sat Nam Sing. E hanno cominciato a usarlo. Vediamo. Speriamo bene. Cage O'Vagoni invece. Cage O'Vagoni, che pare insomma che non riescono a rimanere soltanto loro tre, si sono uniti a AC Zero e ovviamente sale tantissimo la paura, anche perché le voci parlano di un loro match tutti e quattro insieme a Forbidden Door, che non sarebbe un problema così grande, però anche lì c'è proprio necessità di vedere lanciare ancora i Gates O'Vagoni, ok, che adesso c'è Brian Cage che può fare delle cose, sistemare... promo bruttino... il migliore è stato di Sissero, cioè mi fa ridere questa cosa perché Sissero viene dal Messico a tutto un altro modo, però è quello che è riuscito meglio. Vabbè, sono cose che capitano purtroppo. Vedremo che cosa succederà. Intanto so che cosa sta succedendo a voi in questo momento. state schiacciando il tastino del like perché avete voglia di aiutarci, di darci una mano. Chi di voi vuole darci una mano maggiormente anche entrando a far parte ancora più a fondo della nostra famiglia, diventando un nostro abbonato, beh, si può abbonare, ma chi invece dice soldi non riesco a darne, ma il mio contributo lo voglio dare comunque, il like, il commento, sono tutte cose che possono veramente darci una grossa mano per crescere, per diventare ancora più importanti all'interno di quello che è YouTube e in generale, insomma, il wrestling web. Quindi aiutateci, dateci una mano se ci volete bene. Tornando a Rampage, ovviamente c'è stata anche Tony Storm che ha lottato contro Viva Van. Viva Van che è stata purtroppo all'interno del match in cui si è fatta male Atina, anche se in realtà non si parla di stop particolare per Atina, quindi probabilmente riuscirà a recuperare abbastanza presto. Comunque Viva Van va contro Tony Storm e esce fuori un match abbastanza anche combattuto in certe fasi, quindi assolutamente buono da vedere. Un po' di minuti sul ring per Tony Storm, continua il suo modo così importante di comportarsi, così strabordante, però continua a lottare piuttosto bene, quindi perché no, perché no. Se fa tanto personaggio ma poi sul ring torna ad essere la Tony Storm che conosciamo, tanto ben che mai, insomma. Viva Van fa il suo, non è un fenomeno però è riuscito a fare il suo, quindi accettiamo di buon grado anche questo match, così come accettiamo Saraya che poi subito dopo questo incontro in un promo backstage spinge per il suo match contro Maria May. Dovevano già farlo mercoledì, poi è stato tolto per far lottare Mercedes Monet, è stato subito reinserito per mercoledì prossimo, quindi va avanti ancora un pezzettino della faida tra Mercedes Monet, scusate, tra Tony Storm e Mariah May e la parte delle outcast. Vedremo perché comunque a breve dovremo anche stabilire l'avversaria per Tony Storm e noi ci aspettiamo tutti sia Mina Shirakawa, ora capiremo come riusciranno a gestirla perché al momento è ancora tutto nella nostra testa, sono paradossalmente fatto di più nel mese e mezzo precedente rispetto a che adesso quando effettivamente bisogna stringere e andare a chiudere intorno all'argomento Forbidden Door. Lo capiremo molto presto, credo. C'è Kylo Reilly che batte un qualcosa Cruz, un lottatore che ovviamente è lì per fare da sparring partner, da cuscinetto sostanzialmente, per dare un po' di minutaggio a Kylo Reilly, Kylo Reilly che poi a Collision sarà contro un Will Osprey freschissimo di shot titolata anche per il titolo del mondo contro Swerve, ma che domani a Collision metterà in palio il titolo international proprio contro il buon Kylo Reilly. Sarebbe stato un match interessante da vedere ovunque, vedremo, lo guarderemo più che volentieri anche in questo episodio di Collision, che ovviamente vi racconteremo poi lunedì nella nostra consueta review che troverete qui sul nostro canale YouTube. C'è anche Johnny TV che vuole un avversario e dice io sono alla ricerca dei migliori lottatori e ce n'è uno contro cui non ho mai lottato che mi piacerebbe ovviamente affrontare e questo è Claudio Castagnoli, quindi a Collision vedremo anche il match tra Claudio Castagnoli e Johnny TV. Bene, molto bene, tanto insomma ce li godiamo questi match, quindi tanto ben che mai. Per quanto riguarda il main event invece Rey Fenix batte Isaiah Cassidy, un Rey Fenix che sembra in buona forma, un buono stato di forma, dopo aver stato fermo per un po' e aver lottato sostanzialmente soltanto a Double or Nothing, è tornato invece a lottare con un Isaiah Cassidy che insomma l'abbiamo detto tante volte in questo periodo, sta facendo bene, sta lottando bene, ma è un po' confinato a perdere e credo che sia un po' parte della natura del suo momento. Non sappiamo per quale motivo Mark Quen non venga utilizzato, temo che sia per un altro infortunio, però intanto Isaiah Cassidy sta crescendo tanto e sta creando un grosso dislivello tra lui e il suo compagno di tag dei private party, vedremo come la cosa verrà risolta barra sistemata. Questo è stato molto bello di match, forse uno dei match venuti meglio, con anche un rischio incredibile per un headshot surr fatta da Rey Fenix ai danni del suo avversario, che però era sulla seconda corda, quindi con i tacchi della scarpa abbattuto sulla terza corda, è caduto, poteva andare molto male, fortunatamente lui è bravo ed è di gomma, che è una cosa che non guasta mai in questi casi. Molto bene quindi ciò che abbiamo visto, ammetto che è stato un buon rampage, mi sono divertito, cose che portano avanti le storyline anche di Forbidden Door, ma soprattutto un bel po' di cose che continuano a muoversi all'interno di questo programma, che nella sua unica ora, il venerdì sera, continua ad essere un grandissimo programma bello da seguire, quindi sono ben contento così. Vi ringrazio di cuore per aver guardato anche questa review, fatemi sapere la vostra nei commenti, sono molto curioso, ovviamente come sempre vi do appuntamento a tutti quelli che saranno i video della prossima settimana, ma anche a tutti quelli che sono stati i video della settimana appena trascorsa, se avete perso qualcosa recuperate, per esempio oggi è già uscito un bel video sulla storia della Ring of Honor, sul The Prophecy, la prima stable della Ring of Honor, quindi se volete andare a dare un'occhiata ovviamente è ben gradito, poi magari lasciate anche lì qualche commento. Grazie ancora a tutti per aver seguito allora questa review di Rampage, io sono Stefano, la voce di W Italian Podcast, noi ci rivediamo, alla prossima.